Dobre vece Svima, sono veramente felice di essere qui di nuovo tra voi dopo appena tre settimane dalla settimana del cinema italiano a Novi Sad. Dobre vece Svima, drago mi è che Vas svedem e drago mi è che sono ancora qui dopo tre settimane di tre settimane italiane italiane. Porto tutti il saluto dell'ambasciata d'Italia, di Serbia e dell'Istituto Italiano di Cultura. Premi Svima, pozdravi l'ambasciata Repubblica Italie in Srappi e pozdravi l'Istituto Italiano di Beograd. Sono felice di questo inizio del Festival del Cinema Europeo che ci onora molto con il film di Emma Dante, Via Castellana Bandiera. I drago mi sto, ho il festival, moce da ottenere il primo film, Emma Dante, Ulizia di Polemo. Ma sono soprattutto felice di aver riportato anche Elena Cotta, la principale protagonista del film. È stata che ha ricevuto la Coppa Volpi alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. E lei apprezzo a ottenere il film film. È stata ottenere il primo film film. Come migliori attrice e il premio Pazineti per la migliora interpretazione film. Dobila è una maggione per il primo film film. È stata ottenere il primo film film film.